Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, appunto, 18 ottobre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto bisogna fare un plauso a Conte, perché secondo quello che si vede sui giornali, avete sentito bene, sarebbe proprio Conte, il Presidente del Consiglio, a frenare ulteriori tentativi di restrizioni, di coprifuoco, di chiusura dei negozi e oggi il titolo più divertente forse è quello del tempo. Vediamo se lo trovo, le signore spettinano Conte, perché le signore sarebbero le parlamentari, le ministre che dicono a Conte per carità non toccare i parrucchieri, perché c'era l'ipotesi anche per i parrucchieri di ulteriori restrizioni. A me interessa poco se sono le donne i parrucchieri o non i parrucchieri. Ogni categoria è infelice a modo suo, più ne riusciamo liberi di lavorare oggi e meglio è. A me fa ridere moltissimo, e tra poco lo pubblicherò sul mio sito, c'è sul mio giornale online nicolaporro.it, la questione della indispensabilità di alcuni lavori. Allora si dice, quel lavoro non è indispensabile, il barrucchiere non è indispensabile, le slot machine non sono indispensabili, il gioco non è indispensabile, non è indispensabile la movida, sempre la movida, non è indispensabile il bar, non sono indispensabili i ristoranti. forse qualcuno non ragiona per chi sono indispensabili questi lavori, cioè per chi li fanno, cioè il parrucchiere, l'estetista, gli addetti alle slot machine, gli addetti al gioco d'azzardo legale, gli addetti agli eventi, gli addetti al catering, gli addetti alla movida, gli addetti al bar, beh per loro secondo voi non è indispensabile quel loro lavoro, sono molto facili le nostre posizioni, dal nostro lettuccio di casa a bello caldo, nel dire che non sono indispensabili quei lavori. Sono indispensabili tutti, i giornalisti che scrivono sempre e solo l'unico pezzo, sono indispensabili quanto per quanto mi riguarda i giornalai, quanto i camerieri nei bar o nei ristoranti, ma evidentemente per i politici e per i giornalisti quelli non sono indispensabili. E anche per molta gente che sta a casa, che pensa dall'alto del suo ruolo di dipendente dell'anagrafe di Roma, di essere molto più indispensabile di quanto lo sia un cameriere in un bar. Ecco, io non la penso come loro. Conte non vuole però misure così estreme, e quindi plauso a Conte se resiste nel suo DPCM, che dopo cinque giorni comunque rifarà. E su questo però permettetemi un po' di sfottere quel genio totale di Marco Travaglio, cioè il portavoce vero del governo insieme a Casalino. Travaglio e Casalino hanno anche questa aria, diciamo un po', come posso dire, non li mettete insieme, sono quella eletta là dei due portavoce di Casalino, scusatemi, di Conte. Basta panico! Oggi sul Fatto Quotidiano il giornale che ha più parlato e più raccontato il panico di questa epidemia oggi svolta fondamentale sul Fatto Quotidiano. Il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano è Basta Panico, esattamente nella notte in cui Conte gli spiega che lui non vuole proprio chiudere tutto perché le misure economiche italiane, come spieghiere mi sembra Sandro Neri sul quotidiano nazionale, insomma sono quelle che hanno reso la decrescita dell'economia italiana tra le più alte del mondo. Ma quindi Basta Panico è il titolo del Fatto Quotidiano con un fondo di Travaglio che parla di tutt'altro. I dati seri, dice il Fatto Quotidiano, li ringrazio, ma non come a marzo. Dati seri ma non come a marzo. Ma come? E dove è finita tutta la prudenza? E dove è finita tutte le terapie intensive? E dove sono finiti i 15.000 positivi, 12.000 positivi? Io sono d'accordo col Fatto, sono d'accordo con Conte! Se ne sono accorti finalmente oggi! Per il messaggero ci sarà soltanto una mini stretta. Ma la cosa più divertente è che poi la mini stretta andrà sempre a mettercelo in quel posto a noi. Perché una delle mini strette, a parte i ristoratori e i bar di cui vi ho già parlato prima, sarà lo cosiddetto smart working. Lo smart working sarà al 75% per i dipendenti pubblici. Quelli sì, forse non essenziali, ma il problema è che noi continueremo a pagare lo stipendio allo smart working dei dipendenti pubblici, mentre, come vi posso dire, quelli da casa, come spiega bene Sabino Cassese, tranne casi ridottissimi faranno 0,0! Straordinario, poi, perché anche il dipendente pubblico sono gli ospedali, sono gli infermieri, sono i medici, i dipendenti pubblici sono le maestre, i professori, i bidelli, i dipendenti pubblici sono coloro che si occupano dei trasporti pubblici, però ci sono dei trasporti pubblici che stanno a casa. Il 75% di quelli che già fanno molto meno oggi staranno a casa. Questo, secondo me, è una di quelle follie partorite della Romanità che a me sono del tutto ignote. Poi vorrei anche dire che gli altri dipendenti pubblici che stanno pensando di organizzarsi sono quelli della Camera, no? Perché siccome ci hanno 20 contagiati, stanno lì a frignare, ci siamo contagiati. Ma allora mi chiedo, toc toc, ma voi siete quelli che ci spiegate, destra e sinistra, Forza Italia, Lega, la Lega, insomma, diciamo perdere, Forza Italia, N, anche N, lasciamola perdere, Fratelli d'Italia, cioè tutto il parorama, praticamente l'80% del parorama parlamentare, ci ha detto le mascherine, state distanziati, lavatevi, si cagano sotto così, sono tutti... e poi si prendono la malattia. Ma com'è possibile? Pensate che vadano dei parti? No, penso semplicemente che purtroppo questa malattia non si cura soltanto e non si previene soltanto con la mascherina, nonostante l'obbligo della mascherina sia anche all'aperto. È un'evidenza. Mentre è un'evidenza che la crescita è esponenziale. Oggi ci fa uno spiegone, Paolo Giordano, sul Corriere della Sera, che cos'è la crescita esponenziale dei numeri. Cioè 2, 4, 8, 16, 32, questo è il modo in cui esponenzialmente creano i numeri. E allora Paolo Giordano dice dobbiamo agire subito, bisogna avere misure drastiche. Ma io mi chiedo e vi chiedo, ma perché nessuno, compreso Paolo Giordano, non fa un ragionamento sul fatto che le crescite esponenziali dei contagi vogliono dire pochissimo? Cioè quello che conta sono le crescite semmai lineari e non esponenziali dei ricoveri. E nei ricoveri, come tanti ci hanno spiegato, purtroppo oggi si vanno a ricoverare tante persone che non dovrebbero ingolfare gli ospedali perché con 38 di febbre non ci si ingolfa gli ospedali. Massimo Giannini racconta la sua storia, il direttore della stampa, che invece evidentemente aveva bisogno dell'ospedale, i tubicini, l'ossigeno, e dice si accorge di questa grande umanità che c'è negli ospedali e della tragedia che c'è negli ospedali. Ovviamente io ho massimo rispetto della malattia di Massimo Giannini, l'ha avuta più sfortunata di me, più grave di quella che ho avuto io a marzo, quindi bisogna stare molto rispettosi, bisogna veramente augurargli il pronto recupero. Peraltro ho già scritto un pezzo, quindi probabilmente oggi sta un po' meglio. Quindi bene, siamo felici che Massimo Giannini sia meglio. Però purtroppo Massimo Giannini, questa è la malattia, nei di ospedali quello che non vediamo è drammatico. Quante persone oggi non si possono curare, quanti oncologici oggi non possono fare le loro chemioterapie, quanti oncologici non sono ancora stati visti come oncologici, e quelli rischiano non di curarsi, quelli rischiano di morire se continuiamo a pensare, a mettere questa gigantesca, come possiamo dire, alert su 700 casi al giorno di positivi veri, non asintomatici. Ma vabbè, questa cosa è difficile da spiegare, così come è molto interessante il pezzo di Brambilla oggi, che ricorda un'intervista a Massimo Fini, dice ragazzi siamo l'unico paese al mondo che ne sta facendo questa tragedia, incredibile di questa vicenda, la sta mettendo su tutte le prime pagine dei giornali, e io non ci potevo credere. Poi ho visto pagina 3 del quotidiano nazionale, che fa vedere il New York Times, Franke Furter-Gemain, il Figaro e il Daily Mail, e nei giornali di ieri la notizia del Covid, nonostante avessero molti più contagi di noi, era un francobollino in prima pagina. E com'è possibile che noi, il mio amico Vittorio Sgarbi mi chiamo ogni giorno, diciamo non devi parlare più del Covid, tanto è persa sta partita, meno ne parliamo e meno drammatizziamo la vicenda. E purtroppo però è l'unica vicenda che gli italiani vogliono sentirsi dire, è un po' un cane che si può morte la coda, anche se Brambilla ha perfettamente ragione. Oggi sul paese in cui loro hanno 15.000 persone di contagiati con una popolazione inferiore alla nostra e molto più tensione negli ospedali e nelle terapie intensive, non si parla del Covid, se non nell'editorial in cui si parla delle conseguenze economiche del Covid, poi si titola su Vox, sul partito di Vox, e si parla della riforma giudiziaria, si parla di tante cose del paese, ma non di quello di cui parlano tutti i giornali italiani per le prime dieci pagine. Devo dire che non alcuni parlano della manovra economica e così è. Feltri dice che il governo sta governando abbastanza bene, avrà certamente fatto, dovrebbe, ed è sbagliato che non sente l'opposizione in Parlamento, però forse converrebbe capire che cosa l'opposizione potrebbe consigliare a questo governo. E caro Vittorio Feltri, direttore, forse potrebbe consigliare a questo governo quello che scrive il tuo giornale tante volte, cioè di non affidare a un commissario incapace come Arcuri la gestione di questa emergenza, per dirne una. Per dirne una, che non è poco, perché affidare l'emergenza a persone che siano in grado di preparare le regioni in maniera da affrontare la recrudescenza di queste settimane e dei prossimi mesi forse non sarebbe stato un errore mostruoso. Comunque, oggi dovrà arrivare l'undicesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrebbe riguardare bar, ristoranti, scuole, dicono tutti quanti i giornali. In realtà il giornale dice chi paga contro i ritardi, però poi non si riesce a capire bene quali sono, perché lo stesso giornale mi sembra di aver capito che è uno dei chiusuristi, insieme a tutti quanti gli altri. Vi ho parlato dello smart working e vi ho parlato del fatto che su questo ci sono poche voci levate contro, sono quelle di Cassese e di tanti altri. La manovra economica è l'altro grande tema di cui si sono occupati ieri, 40 miliardi di euro di manovra economica, non si capisce quanto è la sanità, quanto è il lavoro. Quello che si capisce sono le seguenti cose, che ci sarà una proroga della cassa integrazione di 18 mesi per il Covid, che ci sarà un blocco, si va avanti sul blocco dei licenziamenti, i sindacati lo vogliono fino a marzo e probabilmente invece fino al 31 dicembre ci sarà il blocco delle cartelle esenteriali dei piglioramenti per 9 milioni di persone. Queste sono le cose che escono. Beh, è stupenda l'idea, e me lo segnala Zanetti oggi in un tweet che io ho seguito con passione, dicevo dove è finito tutto quel dibattito, ve lo ricorderete, sull'aliquota IRPEF fatta la tedesca, la riduzione fiscale, il mega, tutto quello che sarebbe cambiato, praticamente zero. Ma lo dicevano loro che avveniva con questa finanziaria, non è che se lo inventava qualcuno e lo pretendeva qualcuno. Per quanto riguarda invece il tema delle ctasse, politicamente Repubblica mette in retroscena quello che è successo ieri, uno scontro mostruoso con la Belanova, cioè per fortuna che la Belanova c'è ieri, in Italia viva del partito di Renzi, perché quelli dicono, ragazzi ma veramente volete far riprendere plastic tax e sugar tax, vi siete veramente fumati l'impossibile. E pare che sia stata rimandata, e qui c'è compromesso, qualche giornale dice a luglio, o qualcun altro a marzo, ma lo scontro sulle tasse politicamente è fortissimo. Altre due cose vi segnalo, il professore decapitato, che è una cosa pazzesca, ho visto ieri la foto che mi ha mandato il mio amico Bisoslavo, inviato di guerra, una foto di una persona decapitata, non avete idea che forza c'ha, dice Fausto, bisogna pubblicarla, i giornali non vogliono pubblicarla, anch'io ho qualche timore a pubblicare una foto di quel tipo, non lo farò, però devo dirvi la verità che quando vedete una foto di una persona decapitata pensate che orrore a cui può arrivare la follia e l'estremismo islamico, non capisco perché dicono tutti islamista oggi sui giornali, follia islamica, ne arrestano dieci, ne parlano tutti i giornali, poco, e quelli italiani, se non il Corriere della Sera, menzione il Corriere della Sera che ne fa ancora la prima pagina, e la foto in prima pagina, perché quella è una storia incredibile di un professore, non che ce l'aveva con gli islamici, ma che semplicemente parlava della libertà di parola, Samuel Paty, che mi sembra, il professore decapitato, che mi sembra forse uno dei principi della rivoluzione francese. Biden sarà anticinese? Beh, sì, dice Prodi, nel fondo che fa sul mattino, e sul messaggero, sarà anticinese, così come lo è stato Trump, se la prenderà addirittura nome e cognome lo fa esplicitamente Prodi con Huawei, vi ricorderete che hanno arrestato la figlia o la nipote del fondatore di Huawei, mi sembra, in Canada, su mandato americano, continuerà a farlo, ma lo farà in modo più educato, nel frattempo tutti i giornali stanno dicendo pagina 8, pagina 10, due terzi dei voti, continuano tutti i voti per Biden, perché sapete che in 28 stati americani si può votare in modo anticipato, e lì già sarebbe una vittoria, stravittoria di Biden, secondo i giornali italiani, forse è così, lo vedremo nello speciale di Quarta Repubblica il 3 marzo, ma Fabbrini è stupendo, è quello che cacciò Gervasoni, lo scienziato politico della Luisi, il socialista, amico, diciamo di quelli che contano, il socialista, è amico di quelli che contano, cioè da Luisi da Martino è passato a Fabbrini, da Da Empore è passato a Fabbrini, da Infantino è passato a Fabbrini, da questi qua, da Antiseri è passato a Fabbrini, vi rendete conto, beh, dice sul voto usa una lezione per l'Europa, mentre poche settimane fa, vi giuro, questo è peggio di Galli, Galli e Clementi oggi intervistati, leggetevi quella di Clementi e non quella di Galli, ovviamente l'intervista sul virus, quella di Galli è la solita roba, fa finta di conoscere il suo ospedale, non sapeva neanche quante persone erano state ricoverate nel suo ospedale, questo genio della terapia intensiva, ma comunque Fabbrini dice che sul voto una lezione per la UE, poche settimane fa diceva la democrazia americana è davvero fragile, cioè siccome può perdere Biden è fragile, ma oggi invece secondo lui che vince quell'altro è una lezione per la UE. UE veneziani, ultime due notizie, beh, insomma, raccorda il fatto che sono a 700 anni della morte di Dante, se ne è ricordato soltanto un concerto di Muti e non lo stiamo celebrando e poi l'ultima storia è questa storia assurda dei cinghiali che vengono giustamente narcotizzati e poi uccisi, avete sentito bene, uccisi, perché i cinghiali sono un problema e i pezzi oggi del Corriere della Sera, tutto il quartiere Aurelio, disperato, attonito per quello che è successo, questo parco sembra una strage di cinghiali, ragazzi, i cinghiali sono per chiunque viva in campagna, per chiunque viva in una città, un disastro, una mamma con sei bambini dei cinghiali, prendetevela con un bambino di due anni, guardate che cosa succede, quelli che hanno distrutto questa situazione che si era creata a Roma hanno fatto bene, nonostante le brambilla, gli animalisti, quello che volete, i cinghiali sono un problema e la differenza tra uomo e cinghiale vorrei che fosse chiara e i cinghiali sono un problema per chiunque non viva nelle città e viva in Toscana, viva in Liguria, chiunque, sa il disastro che fanno agricole i cinghiali, noi vogliamo la panza piena e i cinghiali così come animaletti che noi accarezziamo come cagnolini sciarpei nei nostri parchi, una roba veramente da Maria Antonietta. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento domani con Quarta Repubblica e col sito nicolavoro.it il giornale online che tutti quanti voi volete se non credete nelle parole di Galli. Ciao.